Tragedia a Pisciotta nel Salernitano. Un uomo nel pomeriggio di lunedì è deceduto durante un'escursione sulla Monte Castelluccio. A perdere la vita è stato Enzo Cosentino, 68 anni, di Roma, molto conosciuto sul territorio. Era legato affettivamente alla cittadina riverasca. Da 40 anni circa portava nel comune cilentano gruppi di studenti stranieri per insegnare loro l'italiano e far conoscere le bellezze del territorio. Tutto questo attraverso l'associazione di cui faceva parte. Proprio durante un'escursione con un gruppo di studenti che aveva condotto in questi giorni a Pisciotta è stato colto da un infarto. Per lui non c'è stato nulla da fare. Cordoglio è stato espresso dal sindaco Ettore Liguori. È una vera e propria tragedia. Perdiamo un amico, una persona che ha cambiato il modo di fare turismo. Era di Roma ma per me e la nostra comunità era uno di noi. Era riuscito in tutti questi anni a generare un rapporto diffuso con Pisciotta. Era un rapporto che oltretutto lui aveva in modo diffuso non solo con il sottoscritto per quello che vale ma con una serie di persone che lo avevano accolto con piacere e quindi rivederlo nella piazza e nei vicoli di Pisciotta, riconoscerlo. Era una cosa che faceva bene al cuore, come faceva e fa bene al cuore rivedere questi ragazzi e queste ragazze. Spero che questa cosa possa continuare. Intanto un grazie a lui dal profondo del cuore.